Vedete, cacca non è tanto liquida, quindi per farla diventare liquida, la andrò a mettere nel microonde. La lasciate in circa 30 secondi. Adesso la metto nel microonde e la riscargo. Ragazzi, come vedete, la cacca è diventata più liquida. Quindi adesso la andrò a spalmare sul pannullino. Ragazzi, la cacca... Ragazzi, è passata quasi mezz'ora. Primo! Sì, no! Pistolina! Elena, liberami! Dai! No! Elena! Scava, scava! Dai, che usciamo là, mamma! Questa seco! Ragazzi, è passata quasi mezz'ora. Primo! Sì, no! 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 Grazie a tutti.